Nella notizia che arriva dal Regno Unito relativamente all'esperienza prima la farmacia sono veramente molto interessanti. Moltissimi sono i pazienti che si rivolgono alla farmacia dopo aver contattato il servizio telefonico per trovare un aiuto a quelli che sono i piccoli problemi e questo è veramente importante perché ha due grossi risultati. Un primo risultato è quello di aiutare il paziente a risolvere questi piccoli problemi, il secondo è perché toglie sicuramente pressione al sistema sanitario. Questa esperienza quindi ancora una volta guardata con molta attenzione, ancora una volta dobbiamo guardare quello che avviene in altre realtà europee per prendere esempio e quindi cercare di riportare nel nostro territorio queste esperienze. Da sempre la farmacia, anche da noi, è un riferimento importante per il cittadino in difficoltà. Però questo non è strutturato con un progetti o con esperienze strutturate. Credo che questo sia assolutamente necessario giorno d'oggi proprio con quelle due finalità che ho precedentemente riportato ovvero aiutare in modo concreto ma strutturato i pazienti dall'altro cercare di sollevare il sistema sanitario. Grazie. 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 Grazie.